A scuola i miei insegnanti infammi non mi capivano i miei problemi, gli insegnanti sono come gli spirri, io non finirò in galera perché sfruttano la scuola media rastignano, la mia gente vera è la gente negativa, me ne porto un cazzo nella gente positiva che non mi capisce, ammattate gli insegnanti se vi punisce, non lasciate esprisciare. Manuto, Manuto perché sei caduto in un imbuto, allora l'hai voluto, allora ti è piaciuto e adesso chiedi aiuto, 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 manuto, perché sei caduto in un imbuto, Allora l'hai voluto, allora ti è piaciuto e adesso chiedi aiuto, 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 sei come un pescatore caduto in brutte acque e ti vuoi salvare per non annegare, 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 per non annegare,